... ... ... ... ... ... ... ... quindi dubbio e curiosità a vedere se in quel 10 ci sono 50 mila o 10 domanda ma non me lo faccio e già ma adesso fa l'ora ti faccio fischi a basso ma io mamma ma che cosa fai? come hai? 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 sei anch'io sono fai matematici perché vengati nelěct your eyes basta visitai e me la mamma bec basti 24 di nuovo ciao buonanotte ciao buonanotte ciao barbada buonanotte come buonanotte Grazie a tutti. c'è la scrivola Canta, buona notte Anna e Gio, ciao Cos'è? Isto? Ehi, ehi Ma, visto? che a me lo gioco a chi stia mamma è già ora e 5 quando mi sono mi sono venuto stai in ammè già i pezzi non lasci spugge i figli Gianni, faccia bene, va bene? oh ma, vengo a fare le scuole vieni, vieni vieni vieni, vieni vieni vieni, vieni vieni ma non ti tocca oh, vieni 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 Dove l'altro io voglio creare? Ora Ora oi, gente, non è a mancina con me Non è rai, non c'è l'altro Ma c'è l'altro Ma, non vale c'è l'altro Non c'è l'altro Ma Non sape perchè era qui nel lato Ma non sape voi Ah, ma non sape voi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.